ciao a tutti e bentornati sul mio canale oggi parliamo di questa fascia dimagrante costata 4 ore 10 ed arrivato in circa 30 giorni come sempre prima di mostrarvela vi lascio con le foto con cui viene mostrata al produttore allora questa fascia elastica viene venduta solo ed esclusivamente nel colore nero ed è taglia unica questa parte dentro è quella che vi farà sudare che infatti è dimagrante perché dove l'applicate fa sudare potete applicarla sull'addome sulle braccia sulle cosce dove volete perché lei con questo tessuto dentro vi fa sudare e perdere i centimetri questa fascia si può portare comodamente sotto i vestiti mentre magari siete in ufficio state lavorando fabbrica cosa del genere oppure ha un valore in più se la mettete nel mentre fate dello sport perché oltre a consumare calorie dello sport questa fascia vi fa sudare di più e riduce i centimetri bene anche però abbiamo finito io vi ricordo come sempre di lasciarmi un like su questo video di commentare se anche voi avete acquistato questa fascia e di iscrivervi al mio canale per non perdervi i miei prossimi video ciao